Buonasera, benvenuti al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni. Questa sera abbiamo come ospite in studio il Presidente dell'Unione Montana Valbelluna, Stefano Deon, che salutiamo. Buonasera a tutti. Partiamo subito dalla legge regionale che crea un po' un riordino, crea un po' un cambiamento in seno alle unioni montane. Sì, la Regione Veneto a gennaio di quest'anno ha varato una legge, che è la legge 2, di riordino appunto alle unioni montane. La precedente legge era del 2012, fatta molto in fretta perché c'era un momento di grande cambiamento, quindi passaggio tra comunità montane e unioni montane. Dopo alcuni anni di rodaggio, la Regione Veneto ha varato questa legge che riunisce un po' tutte le normative esistenti sull'unione montane, ha portato ad un riordino e sostanzialmente con questa nuova legge c'è un... le unioni montane hanno un futuro molto più roseo, tra virgolette, insomma, ecco. Sono viste come quel contenitore per gestire funzioni che i comuni magari hanno difficoltà a gestire singolarmente. Quindi questa legge punta molto sulla gestione delle funzioni fondamentali dei comuni in associato, ma in generale anche di altre funzioni che non rientrano tra quelle fondamentali, che tante unioni montane appunto gestiscono i nomi per conto dei loro comuni che sono aggregati all'interno, insomma, ecco. E anche la ripartizione delle risorse che la Regione Veneto mette a disposizione delle unioni montane e tiene conto anche di questa tipologia, di quante funzioni, di quali funzioni. Quindi c'è uno stimolo ulteriore appunto ad associare servizi se appunto, dicevo, i comuni non sono in grado o hanno difficoltà a portarli avanti da soli. Facciamo qualche esempio di questi servizi associati. Ma io parlo della mia Unione Montana, l'Unione Montana Valbelluna per conto dei comuni gestisce una funzione fondamentale che è la protezione civile, che è stata associata qualche anno fa. E quindi quello è un servizio appunto all'interno. Poi, per conto dei comuni, svolgiamo altre attività ed altri servizi. Per esempio c'è il servizio associato dei tributi, che è un servizio che funziona bene per tutti i comuni. Abbiamo una squadra operai che ci garantisce la possibilità di svolgere sul territorio dei comuni dell'Unione Montana tanti interventi di sistemazione idraulica e idrogeologica, sfruttando anche quei finanziamenti che derivano dai canoni idrici, che la provincia periodicamente delega e si gestisce dalle Unioni Montana. All'interno dell'Unione Montana c'è la possibilità di fare tante attività. Per esempio per alcuni comuni, tranne Sedico, che aveva un appalto in corso, l'Unione Montana gestisce i cimiteri, quindi Perlimana, Borgo Valbelluna e Sospirolo. Anche quella è una funzione molto interessante che ha consentito a quei comuni di avere un buon servizio con dei costi compatibili con le necessità che hanno i comuni di essere virtuosi e di risparmiare. E poi altre attività che man mano verranno avanti. Cercheremo di valutare se sono gestibili in forma associata per nome e per conto dei comuni. Altre Unioni Montana gestiscono anche altri servizi, dalla polizia locale ad altre attività. L'Unione Montana Valbelluna attualmente gestisce i servizi di raccolta dei rifiuti per una parte di Borgo Valbelluna, Mel e Lentiai e Per Sospirolo. Ma questa è una funzione che in tutte le Unioni Montana andrà a cessare tra poco perché le norme non lo consentono più. Sostanzialmente con l'entrata a regime del Consiglio di Bacino Dolomiti la funzione passerà al Consiglio di Bacino e quindi noi siamo già in fase di dismissione del servizio. Infatti l'affidamento che l'Unione Montana ha scade ai primi di ottobre del 2020 e stiamo già lavorando per chiudere e dare comunque continuità al servizio in quei comuni perché di fatto finché non sarà il Consiglio di Bacino a poter fare l'affidamento dovremo comunque noi con l'Unione Montana dare una mano fino alla fine dell'anno. Questo è un po' il quadro in cui ci stiamo muovendo. Diciamo che poi in questo tema ci sarà anche qualche cambiamento, anche lì forse è riordina. Il tema di materia di rifiuti sì, sicuramente la provincia di Belluno rispetto ad altre realtà si presenta molto frammentata nonostante sia una provincia virtuosa in materia di raccolta perché in tutto il territorio ci sono dei sistemi ormai consolidati che garantiscono, hanno degli indicatori positivi sia in termini di raccolta differenziata che di produzione di rifiuto sia secco che riciclabile, però effettivamente c'è troppa frammentazione e le normative che si sono susseguite dal 2012 in poi tendono a ridurre questa frammentazione e quindi ad arrivare ad avere delle gestioni più efficaci, più efficienti fatte da un soggetto. L'obiettivo delle norme è sempre quello di arrivare a un soggetto unico come per esempio nell'ambito del servizio idrico. La filosofia del soggetto unico si applica molto bene in un altro ambito che è quello del soggetto attuatore quando si tratta di creare poi delle progettualità ad ampio spettro. L'Unione Montana è soggetto attuatore per i boschi, per il post-Vaya? Sì, nel post-Vaya l'Unione Montana-Valbelluna si è resa disponibile in nome per conto dei comuni che sono sulla sinistra Piave, quindi Limane e Borgo-Valbelluna che hanno boschi di proprietà, di fare da soggetto attuatore per il post-Vaya sostanzialmente. È un lavoro molto impegnativo che però stiamo portando avanti con tutto l'impegno e tutta la forza che l'Unione Montana può avere. Questo è un servizio che dà una forte mano ai comuni, li responsabilizza di alcune attività e mette operatività anche all'Unione Montana proprio anche con le sue squadre che stanno lavorando in quella parte di territorio per cercare di rimediare i danni che Vaya ha fatto. Anche perché forse si riesce a pensare un po' oltre il confine del comune, cioè si ragiona per area. Sì, uno dei difetti della provincia di Belluna è di non ragionare mai in area vasta. Ognuno in passato si è sempre parlato tanto di ragionamenti in area vasta e magari si è sempre fatto fatica a concretizzarli. Questa cosa del soggetto attuatore può essere un piccolo obiettivo, un piccolo tassello che ci fa pensare un po' più in grande e quindi dando magari più respiro a tante attività. Anche perché adesso abbiamo vissuto l'emergenza Covid, ma ricordiamo che i lavori del post-Vaya sono tutt'altro che finiti, ci sono ancora molte piante a terra. Esatto. Il post-Vaya sarà ancora lungo, purtroppo sì. I danni che ha provocato Vaia sono importanti, veramente importanti e richiederanno anni per essere... La ferita sarà ricucita in tanti anni. Noi ci stiamo mettendo impegno, tutti ci stanno mettendo impegno, tutti gli enti preposti. I finanziamenti arrivano, perché questa è una cosa che si deve comunque dire. Ci auguriamo, ci vorranno anni ma ce la faremo. Io sono ottimista su questo, ce la faremo ritornare alla normalità, ad avere un territorio di nuovo bello e attrattivo per tutti, ma soprattutto sicuro dal punto di vista idraulico e idrogeologico, perché quelle ferite, quegli alberi a terra sono anche un problema dal punto di vista idraulico e idrogeologico, perché possono causare frane di sesti e d'inverno quando c'è la neve si aprono bei varchi per valanghe, eccetera. Quindi anche questo è un tema da affrontare. Sì, poi c'è anche il tema del bostrico, quindi si rischia un po' un effetto contagio. Esatto, e se parte si indebolisce tutto il bosco della nostra provincia. Ci sono degli strumenti di programmazione anche su questo tema, no? Sì, sì, ci sono degli strumenti di programmazione, si sta lavorando tanto e mi auguro che questo ci consenta tutti assieme di uscire, di risolvere il problema e di, appunto, come dicevo, ritornare ad avere un territorio sano da tutti i punti di vista. A proposito di programmazione, piano di sviluppo rurale, questo è un tema molto importante. È un tema importante, sì, dove l'Unione Montana è protagonista. Per conto dei comuni stiamo facendo tante attività, soprattutto in Sinistra Piave, quindi nei comuni di Limana e Borgo Valbelluna. Abbiamo le squadre operai anche impegnate, abbiamo delle scadenze che si stanno susseguendo. Il piano di sviluppo rurale è uno strumento che è molto importante per la crescita del territorio, dà delle grosse opportunità e vedo che il territorio lo sfruttano e mi auguro che sia veramente quel volano che serve per dare voce e sviluppo al territorio montano, al territorio agricolo che ha delle grosse potenzialità qui da noi, quindi un grosso aiuto per fare bene. Quali tasti si riescono a toccare con questa programmazione? Noi, come Unione Montana, stiamo lavorando molto sul tema delle maglie che sono una caratteristica del territorio della Sinistra Piave e su altre attività sempre connesse all'agricoltura che secondo me sono molto interessanti per lo sviluppo di quella parte di territorio. Soprattutto il Comune di Borgoval Belluna è proprietario di tante maglie che sono un presidio sul territorio, quindi consentono di mantenere il territorio sano ed in ordine e quindi investire lì è un modo anche di conservare il territorio e di renderlo più sicuro anche dal punto di vista del dissesto possibile che se il territorio è non curato può provocare. Si diciamo che segue un po' la filografia dei custodi del territorio. Esatto, se il territorio è curato, se il territorio è gestito in maniera puntuale e precisa da chi il territorio lo sente come un bene di tutti, il territorio si conserva e soprattutto rimane sano, come dicevo prima, mi ripeto, ma da quel punto di vista ci sono grosse potenzialità per mantenerlo e custodirlo bene. L'Unione Montana-Val Belluna ha una particolarità, al suo interno ci sono gli unici due comuni della provincia, cioè Sedico e Limana, che hanno avuto un aumento degli abitanti, un aumento della popolazione. Sono molti i servizi che possono... Sicuramente sì, sia Sedico che Limana sono due comuni che sono strategici, diciamo, dal punto di vista del punto di vista anche economico, sia Sedico che Limana hanno grandi e piccole aziende insediate che comunque danno lavoro, portano benessere al territorio ed entrambi i comuni sono in grado di garantire servizi adeguati e quindi i cittadini vedono la possibilità di trovare lavoro, ma trovare anche quei servizi che gli garantiscono di vivere bene e di avere una qualità della vita alta. Questo, insomma, è un bel segnale che diamo al territorio, insomma. E poi ci sono anche i due comuni, uno è Sedico, l'altro è Borgo-Val Belluna, che sono tra i più popolosi e si arriva fino poi al basso feltrino di base. Sì, l'Unione Montana-Val Belluna è un territorio vastissimo e appunto, diciamo, due comuni popolosi. Borgo-Val Belluna, dopo la fusione di Tricchiana, Melle e Lentieri, è stato un comune molto grande, molto importante e quindi abbiamo, sì, siamo in un'unione un po' anomala anche parlando di tema di servizi associati, insomma, ecco, noi all'interno abbiamo tre comuni grandi, di mano un po' più piccolo, ma comunque è un comune grande, anche su Spirollo non è un comune piccolissimo, insomma, quindi l'associare i servizi è diverso rispetto ad altre realtà del nostro territorio, però, insomma, siamo in grado di, come Unione Montana, appunto, di dare supporto a tutte queste realtà piccole e anche grandi, insomma. Diciamo che questo vi dà anche un peso specifico abbastanza importante quando si tratta di far, diciamo, portare avanti le vostre istanze. Sicuramente sì, mi auguro di sì, insomma, anche questo è, sì, è un'unione montana importante, da quel punto di vista sì, è una delle più popolose e chiaramente se uno guarda geograficamente dove sono insediate dal punto di vista economico c'è una grossissima potenzialità all'interno dell'unione montana, quindi sì, siamo un'unione montana importante e su questo, insomma, mi auguro che questo serva anche a, non solo a noi, ma insomma, che serva anche a tutto il territorio che ci sta attorno, insomma, per dialogare, confrontarsi e costruire cose assieme che siano di sviluppo per l'intero territorio provinciale, insomma. Abbiamo parlato di molti temi relativi poi al lavoro dell'Unione Montana-Valbelluna, purtroppo il nostro tempo si sta esaurendo, quindi salutiamo il Presidente Stefano Deon. Grazie e buonasera a tutti. Buona serata.